L'uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura, ma è una canna pensante. Non occorre che l'universo intero si armi per annientarlo. Un vapore, una goccia d'acqua, è sufficiente per ucciderlo. Il segreto della leadership ha avuto quindi origine dalla nostra debolezza, dall'incapacità di controllare un mondo incerto e prevedere ciò che accade, dalla difficoltà di conoscere le cause delle cose, dall'insufficienza e dai limiti dell'individuo come singolo, dalla natura biologica e dalle profonde tendenze emotive che distruggono il nostro equilibrio.